Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con un giapponese a caso Ciao Attivate i sottotitoli Bene, allora, dal video dell'altra volta che siamo andati a mangiare sushi Un sacco di voi ci hanno detto, ma com'è stato il tuo amico dopo che è andato al sushi? Oppure mi avete anche chiesto, perché non lo porti a mangiare in un sushi giapponese o you can eat, vero? Sì E allora oggi ho portato il nostro amico giapponese a caso a mangiare in un ristorante sushi E tra l'altro ragazzi, a fine video, il nostro giapponese a caso risponderà anche ad alcune domande che mi avete fatto per lui su Instagram Quindi restate con noi fino alla fine del video Se no Il ristorante do you can eat che proviamo oggi è otanio, costa pochissimo Vediamo cosa prendere Questo non c'è in Giappone, dice Avocado Praticamente sono tipo fritti fuori e dentro c'è l'avocado Better than car food? L'odore del pesce è molto forte Proviamo questo pezzo di tonno Buongiorno Buongiorno? Mh 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 era tagliato molto fino non si capiva la differenza col salmone ma buono come? questo è uguale a quello giapponese assaggiamo anche la zuppa di miso ok al sapore della zuppa di miso istantanea questo non c'è in giappone dove si chiama tiger row per questo non serve la soia assaggiamo adesso questo col philadelphia questo è un sushi che in realtà non c'è in giappone come è stato? è stato buono sì? è stato buono ma è molto barato anche se non è più barato come è stato buono è buono è buono è buono è buono ma è buono ok al riso era buono anche sarà tanto vero? E' molto buona E' molto buona Il pezzo sopra di Sashimi per fare il Sushi era tagliato finissimo E poi c'era un bel po' di riso Però devo dire che il riso almeno era cotto bene Quella è una buona cosa E...Done che è la più buona cosa Inoltre Filadelfia Crudo e Filadelfia Salmone crudo e Filadelfia Cheese E' che la buona cosa Ma c'era un po' di salmone Ma non c'era un po' di salmone E' il più buono E' una buona cosa E' un po' di salmone E' quello che mi piaciuto è stato il pezzo di salmone E' un po' 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 di salmone perché dovete sapere che se il pesce è molto fresco non ha un sapore così forte è vero? Shenzhenna, la sacana non ha un sapore così forte Sì, in Nipone, la cucina di Sushi non ha un sapore di sapere soprattutto se lo mangiate in Giacone sicuramente non avrà quel sapore mentre il salmone che abbiamo mangiato nel ristorante di oggi aveva questo sapore però, però, se pensate, più di 13 anni di carpool o di Yoke Nito è molto... e poi, in quel ristorante, per costare 11-13 euro, c'erano un sacco di cose anche i cinesi era comunque un ristorante gestito da cinesi però con 13 euro si poteva mangiare veramente tante cose alcune buone, alcune un po' meno buone la zuppa di miso era ok sapeva molto della zuppa istantanea e anche io ce l'ho personalmente anche qui in casa, però devo dire che non era male personalmente a me è piaciuta Taigaru, l'ho da te? no, è davvero buonissimo gli è piaciuto anche quello con dentro il gamberetto fritto? quindi no, sicuramente era più buono del sushi del carpool su questo non ci piove poi, se era buono come il sushi del Giappone ci vuole un altro panno di maniche è niponmitae no shisava, ma tachioto chigawa? non, è piaciuta, è piaciuta, è piaciuta ah ok, ha detto che è proprio un sapore diverso cioè abbastanza buono, però è proprio una tipologia di cibo diverso diciamo così adesso andiamo a leggere le domande ma ma di donna alcuni in Italia potrebbero, no? ehm, dunne... United States America, in America, è stato già in America ehm... Australia Australia Taiwan 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 Hong Kong Hong Kong, in Cina South Korea Nella Corea del Sud Italy In Italia, meh, tante volte Germany In Germania, tante volte Indonesia Indonesia, yeah Spazio Indonesia It was beautiful Turkey Turkey Qatar Qatar, yeah Yes, for one day That was funny That was funny Yes Sebatou, matadougatouro no? Te kikkareto Apparently Yes, si, li stiamo facendo proprio adesso quindi direi che ci saranno sicuramente dei video nuovi assieme 前回, sushi tabetato ni Timoci varukatta no? No No? No Dagiobo? Dagiobo Ok Sommani Ehm... 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 Che comunque sono molto controllati in Italia Per cui, in teoria dovrebbe essere ok Dagiobo da tonno Nande kimitachi Ah, kimitachi Oh, arigato Pensavo kimideche Perché siamo così fighi? Ma... Probabilmente avrai bisogno di un paio di occhiali Poi taberu kara da yo Perché mangiamo tanto sushi del Carpour Where? I don't know This is the general question Cosa pensi degli stranieri e degli italiani? Nihonに住んでる外国人? Wow 基本的に Ehm... すごい日本のカウチャーが好きな人 Ah Um 多いよね Mmm... Mmm... まあ Ehm... 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 すごいなんか... Oh, japonese みたいな Ah... あ... あ... Giapponesi Se lo sapete Scrivetelo nei commenti 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 Scrivetelo qua sotto nei commenti Cosa ne pensate voi dei giapponesi Ma è vero che i giapponesi non sanno l'inglese? I think English education in Japan is not really great Yeah Ehm... The exception here Lui sa parlare inglese perché ovviamente è andato anche in America a studiare Però il modo in cui insegnano il giapponese nelle scuole diciamo che non aiuta I giapponesi poi vivono con questa concezione che sono sempre guardati quindi fanno di tutto per non commettere errori e si sa per imparare bisogna anche fare degli errori Comunque si finirà sicuramente per fare degli errori Quindi... Ehm... I giapponesi pur di non fare questi errori finiscono per non imparare bene Comunque dal proposito io in realtà ho fatto anche un video I 5 motivi per cui i giapponesi non parlano inglese che l'ho fatto sull'altro canale Ma mi sa che lo farà anche su questo Comunque andatevelo a vedere qui Quindi andatevi a vedere il video di perché i giapponesi non parlano inglese che così lo capite Però con la buona volontà di non gindemo Benkyodekiru Da me la nuova katakanamuaru si ha towaseigo Ci sono spesso delle parole in giapponese che hanno dei significati un po' ambigui Perché in inglese ci hanno un significato Poi sono state trasportate in giapponese e hanno un significato diverso Cosa pensi del Seba che mentre fai video ci schiappa sempre la sua mano? I think you should show your eyes to everyone You have such a beautiful Ok Alice Poi ti dà 5 euro Mi ha detto che ho degli occhi molto belli che dovrei farli vedere di più E di non fare sempre vedere solo le mani Vabbè oh Dai un po' alla volta Il suo instagram è troppo bello Ok Ok Ragazzi apriremo apposta l'instagram in questo momento di un giapponese a caso Quindi ve lo lascio qui Ragazzi andatevi a scrivere al suo instagram Andate tutti qua Guardate che non c'è nessuno eh sarete voi i primi Ti faresti mai capelli blu? Che staccato io Non sai 24 Ha fatto qualche operazione agli occhi Sei che staccato io non me Noi Sei che staccato io Bene ragazzi queste erano tutte le domande che abbiamo fatto Iscrivetevi al suo instagram se vi va Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace E ditemi se volete altri video insieme Se vi sono piaciuti eccetera eccetera Un abbraccione da Seba Ciao